Diverse inoltre saranno le iniziative riguardanti l'artigianato digitale, una innovativa modalità di fare impresa di cui si parlerà nell'area Tech Days. Quest'anno pazzesco tutto il settore Tech Day viene costruito attorno a quella che è l'arena dei talk dove avremo degli ospiti che spiegheranno e insegneranno la tecnologia, fra l'altro anche l'intelligenza artificiale che sta aiutando le aziende ad automatizzare ad esempio gli artigiani digitali che producono le cose direttamente con la tecnologia. Questo è importante, abbiamo fatto dei post con l'intelligenza artificiale, vi sfido a capire quali post di Pordenone Fiere sono stati scritti all'intelligenza artificiale e quali no. Pazzesco, questo è uno degli argomenti di cui parleremo, parleremo di musica, faremo provare a costruire la musica con i software alle persone, poi avremo le classiche tecnologie che sono quelle della Mela, Linux Arena e insomma tantissimi espositori dedicati alla tecnologia per scoprire quello che è il futuro ma che in fiera vedrete già oggi.